c'è sia sabrina che francesca si sabrina è qua e francesca è lì non so si sta filmando siamo arrivati un sorriso prenda però eh saluta saluta francesca saluta un saluto per gli amici io non so cosa è sul cellulare sarò filmando se non c'è padre chiamami va bene grazie scusa ciao ma speriamo soltanto che non si parma anche lei perché non siamo a posto grazie ti prego non arrivare qui che non ci siamo non possiamo dai grazie frena che si è fermato francesco si stava tosera tipo a casa mia si curla delle nozze con ti magari se tu ti fermi no alle 10 ma si entra e si fa la doccia in mezzo di macchina ti addormenta e quando si sveglia si sveglia in passato a casa l'altra volta si sveglia in passato a casa si perché si addormenta quindi quando si sveglia ti è infastato non lo so ma standards manca soltanto più ettore perché c'è francesco che sarà bloccato e dai Francesco fate il tifo a Francesco dai fate il tifo vai Ruggero vai bravo stai sparando bravo Francesco un saluto alla regia effettivamente c'è soltanto più una tacca no ma non so se vengono perché l'ho appena cominciato a usare un saluto Ettore un saluto fai ciò con la mano fai ciò con la manina fermati fermati però frenata al limite maestro ok vai 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 alzo non si fa in patatina andiamo si vediamo l'impiegamento vedete che la lenta la mano fa l'impiegamento vi alzo faccio la curva e l'impiego è una più veloce no no per è una più veloce è una più veloce provate in questo esempio è una pietra e un mese è una più veloce fa si evitiamo si si se se si si Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.